Due diverse visioni della liberazione in bianco e nero e a colori, due modalità parallele di rappresentazione della guerra e della pace futura, si alternano e combinano in un racconto originale per immagini nella mostra War is Over, l'Italia della liberazione nelle immagini del Sinal Corps e dell'Istituto Luce, che inaugura domani 31 maggio al Moadi Eboli e sarà visitabile fino al 30 settembre. La mostra, fortemente evoluta dal Comune di Eboli, è stata ideata e realizzata da Istituto Luce Cinecittà con il patrocinio del Consolato americano a Napoli, della Regione Campania, della provincia di Salerno, dell'Università degli Studi di Salerno, del Cirec e con il contributo di Eboli. La mostra è a cura di Gabriele D'Aottiglia dell'Università degli Studi di Teramo e del professore Enrico Menduni dell'Università degli Studi Roma III. War is Over apre il programma di manifestazioni e testimonianze per le celebrazioni del 75esimo anniversario e lo sbarco di Salerno, che si concluderanno nel mese di settembre al Moadi Eboli. Come vedete il manifesto e la mostra è mezzo in bianco e nero e mezzo a colori. Questo per quale motivo? Perché noi non solo raccontiamo lo sbarco degli alleati, ma in questa mostra mettiamo a confronto gli eventi come sono stati visti dallo sguardo in bianco e nero degli italiani e lo sguardo coloratissimo già hollywoodiano degli americani. La mostra è tutta costruita su questo confronto, la nostra mostra è nata a Roma, si è poi spostata a Milano e adesso è qui a Eboli, un luogo importante perché è uno dei luoghi dello sbarco che ha cambiato la campagna d'Italia e quindi per la versione ebolitana l'allestimento è nuovo e c'è anche un gruppo significativo di foto di Eboli che sono state raccolte nel bellissimo archivio Ebad che è presso il comune di Eboli. Proviamo a diventare non la capitale ma ad essere un'amministrazione molto attenta su questa tematica e stiamo ponendo all'attenzione nazionale un evento unico perché la scelta del sito luce di dopo Roma e dopo Milano di scegliere Eboli rappresenta per la città di Eboli un grande motivo di vanto, di orgoglio e contemporaneamente anche di una sinergia di avere individuati insieme un percorso di crescita culturale importante e significativo che dà lusso alla città ma dà lusso alla storia e lo facciamo in un luogo bellissimo che è all'interno del Museo Operation Avalance e contemporaneamente lo facciamo in un momento particolare che è quello appunto della rivalutazione di percorsi storici e culturali che vedono la Piana del Sede al centro. Riteniamo che questo evento rappresenti per la regione Campania non solo per la città di Eboli forse uno dei più importanti in assoluto di quell'epoca.